E allora gol del Milan a Poli, Poli, gol dell'Inter, resti di Palotelli, gol di Poli, gol dell'Inter, no è nostro il gol, ancora Maggiori, l'avevate criticato perché non aveva dato la palla a Poli e qua ha fatto gol, grazie Inter. Partenti per il Verona che riparte, Poli c'è spazio per lui, se ne basta la sinistra poi per un po' di tempo cerca il cross ma interviene. Certo che ci sono dei momenti in cui gira tutto storto, vabbè. Siamo primi da soli, siamo primi da soli, siamo primi da soli, siamo primi da soli, no, siete già in fuga a tasto ricola per Siris. Come fai se siamo primi da soli, siamo stati 6 minuti inizio campionato. Siamo a privi da chi ben comincia Galcio d'anno per il Verona Romulo Con tre giocatori del Verona C'è Toni in mezzo Dietro anche Donati Parla il cross di Romulo Palle in mezzo Sì Segnato Non è che segnava Toni Re Calcati ha detto Segnato Il gol di Toni Io sono in attiva Dobbiamo dire che da quando Purini Ha detto che Toni è uno dell'Inza Ha recuperato due palloni E' vero Allora Errore della difesa Facciamo pure vedere il cartello Verona 1-1 Gol di Toni Riparte Martigno Giorginio Ora la palla in mezzo Per Romulo Super la zona Cerrà il campo Avanza C'è il contropiede del Verona Lo spazio sulla destra Per Jankovic Palla indietro ancora per Romulo Che si allunga il pallone Ancora per Jankovic Siamo al limite dell'area Il cross alla porta opposta Toni di testa Gol! 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 Era dentro la forza E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Pulini Ancora gol di Toni Gol! Ancora gol di Toni Londra Moretti Londra Dopo ne parliamo La palla che sta per spioverinare A Montolivo Sul primo palo Sul primo palo di testa Bucca il portiere E rimane lì No poi Non riesce a chiudere Finita E' 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 finita Ultimi in classifica Non se ne fanno più Non se ne fanno più Non se ne fanno più Grazie.